Cari amici, buongiorno, devo dire che questa campagna elettorale, la fine di questa campagna elettorale ha acceso la rete, ha acceso anche la nostra zuppa di porro e devo veramente ringraziarvi perché ieri ho avuto 100.000 visualizzazioni che sono un numero incredibile per la rassegna stampa che da tre anni faccio tutte le mattine, insomma è capitato raramente di avere numeri di questo tipo, quindi grazie a tutti voi per le condivisioni e per la fedeltà nel seguirvi, sapete che ci tengo tantissimo a questa zuppa come al mio sito nicolaporro.it e quindi volevo esordire questa mattina ringraziandovi tutti i numeri a cui io non sono abituato e spero che crescano sempre di più, anche perché questa è una piccola considerazione che faccio e che forse avrò modo qualche volta di scrivere anche sul giornale, in realtà in queste elezioni ha vinto la Ferragni, il modello Ferragni è quello della web star, cioè della persona perfetta di Battista con il figlio e la fidanzata che va a trovare delle comuni in Texas, Salvini con la felpa che va a vedere dove veramente stanno male gli italiani girando come una trottola, Di Maio che è la Ferragni per definizione, cioè l'uomo che è riuscito a utilizzare grazie alla casa legge associati per primo e non per ultimo meglio di tutti il web, nulla di male, è solo una considerazione, quindi noi pure giornalisti forse invece di leccare i piedi ai nuovi che arrivano come tutti i giornalisti oggi lo nota il fatto, fanno, cioè che sono diventati tutti grillini, vabbè la Confindustria conta quello che conta perché è fatto da piccoli funzionari che non hanno l'azienda e quindi è evidente che devono cambiare opinioni subito perché sennò perdono il lavoro, ma la Confindustria conta molto poco, conta molto di più Marchionne, contano più gli imprenditori, i giornalisti, i cosiddetti opinion maker che sono diventati tutti quanti diciamo meno preoccupati dall'avvento grillino. Allora, qual problema se mi permettete? Non è tanto che siano diventati grillini quello che scrive oggi il fatto, è il contrario, quanto fossero anti-grillini ieri per essere renziani ieri e oggi grillini. Allora, questo è un po' ridicolo, quindi io ai miei amici che fanno questo mestiere dico invece di essere così cagasotto, cercate di rimanere fermi, no? Cercate di rimanere fermi e alla fine poi tutto gira, chi era anti-renziano ieri e oggi e lo è stato ferocemente, oggi può rivendicare il suo ruolo. Il mio amico Luca Telese che scrive spesso sul libero e sulla verità, scusatemi, è stato fieramente anti-renziano e oggi è al posto suo nell'essere anti-renziano, non cambia nulla. Ecco, dice Silvia, Scalfari, Scalfari forse anche un po' per l'età, non deve nulla a nessuno ma forse deve qualcosa alla sua disonestà intellettuale per cui cambia idea ogni secondo. Insomma, l'altra questione che vi volevo segnalare oggi, i titoli dei giornali, sono tutti quanti sul fatto che il PD è morto, nel senso che è morto nella sua leadership, parapà, 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 è arrivato Calenda e lo salviamo! Dai ragazzi, è una delle cose più straordinarie del mondo, cioè se bastasse Calenda a salvare con tutto l'affetto che uno può avere per il ministro dello sviluppo economico il PD, insomma, perché non ci abbiamo pensato prima? Io la trovo una cosa fantastica, l'idea che oggi Calenda si scrive al PD e che pochi istanti fa abbia detto che il PD vedrà in lui l'iscritto più breve se si alleano con il Movimento 5 Stelle, che è una strana idea, se voi pensate molto renziana, della partecipazione a un partito, cioè io mi scrivo a questo partito, poi se il partito si allea con il Movimento 5 Stelle io me ne vado via e non gioco più, capito? Ma porto via il pallone, beh, è una cosa straordinaria, legittimo il fatto che lui sia contrario a un'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle ma qualche giornalista che si alza e dica scusa? Ma se ti scrive un partito, cosa che nessuno ti ha obbligato a fare, esistono i congressi, esistono i convegni, esistono tutte queste pippe qua della democrazia a cui Calenda iscrivendosi a un partito deve fare. Il Movimento 5 Stelle e la Lega puntano sulla crisi del PD, ma io dico, io mi chiedo, ma secondo voi in campagna elettorale se io avessi detto agli elettori che hanno votato Lega e hanno votato il Movimento 5 Stelle che loro dopo un mese avrebbero fatto un'alleanza con il partito di Renzi, perché questo è il PD, è eletti sono il partito di Renzi, è il famoso PD dei mafiosi, di quelli che hanno fatto Jobs Act, la Fornero, che hanno sbagliato sull'immigrazione. Ecco, se io gli avessi raccontato questa cosa agli elettori avrebbero votato con tanto entusiasmo Lega e Movimento 5 Stelle? Beh, secondo me no, secondo me no. La realtà è comunque che oggi tutti sono alla ricerca disperata dei voti in Parlamento perché questa legge è l'unico partito che ha vinto, perché è una legge talmente di merda che ha permesso di ottenere il suo risultato e c'è quello antimeritocratico, tutti parlano di meritocrazia, questa è una legge per la quale grazie a questa legge chi vince non vince. Mauro oggi, in un pezzo interessante su Repubblica, dice che il fenomeno più importante è quello del Movimento 5 Stelle, grazie per essertene accorto, è che in realtà si tratta più di un fenomeno sociale che di un partito, non è male come interpretazione, più un fenomeno sociale che un partito del Movimento 5 Stelle. Oggi, FICO, sul Corriere del Mezzogiorno rilascia un'intervista in cui dice che noi siamo un movimento post-ideologico, le due cose si tengono. Oggi, Mauro, devo dire che è intelligente, interessante in questa analisi, hanno scritto tutto e di tutto sul Movimento 5 Stelle, ma il fatto di essere un fenomeno sociale più che un partito è esattamente quello da cui ho iniziato, cioè più Ferragni che Gramsci, più Ferragni che Berlusconi, che sono anche figli della stessa logica Berlusconi e la Ferragni, ma Berlusconi utilizza degli strumenti che oggi sono desueti, mentre la Ferragni usa, con Battista, con Salvini e con Di Maio, degli strumenti molto più up to date. Cerasa scrive un pezzo sul foglio che non capisco molto bene, in genere è chiaro, mi sembra di capire che a lui non piaccia quest'idea del PD con il Movimento 5 Stelle, con ipotesi di soluzione del casino elettorale, però Cerasa sul foglio dice che l'alleanza naturale è Lega-Movimento 5 Stelle. Devo dire che è fantastico. Brava, Barbara, è il Movimento delle Felpe, il Movimento delle Felpe, questa è l'idea. Flussi elettorali, il messaggero oggi, cioè gli unici flussi elettorali che mi interessano e che tutti noi ci siamo chiesti, cioè come è andato il voto del Movimento 5 Stelle nelle due grandi città che amministra Roma e Torino, oggi sul messaggero la cosa è inequivocabile, dice hanno perso il 5%. Insomma, aver perso il 5% nelle due città che governano dà il senso di quello che io oggi ho cercato di scrivere sul giornale e che più tardi vi farò leggere, cioè facciamo rigovernare, è talmente semplice, se sono bravi meglio per tutti noi, se non sono bravi ci immunizziamo dal sistema Movimento 5 Stelle. Io, come sapete, ho un'idea molto precisa di questo movimento, però questa mattina io vi segnalo una cosa che non riguarda le rassegna stampa, ma io spero che voi possiate guardare questo tweet di Virginia Raggi, adesso è al contrario ovviamente, il tweet di Virginia Raggi dice oggi a Roma, Roma rinasce passo dopo passo, ecco Roma in forma numero 45, questo è il tweet, Roma rinasce passo dopo passo e mi mette nuovi impianti semaforici, porca puttana, si chiamano semafori, nuovi semafori, impianti semaforici, lo dice un burocrate che è il motivo per il quale io voto, chiunque non mi dica impianti semaforici, impianti semaforici, vabbè, nuovi impianti semaforici, regolamento tutela città storica, servizio in forma giovani, let's go, questo è il tweet di Virginia Raggi, dove vive, dove vive Virginia Raggi, a me non me ne fotte nulla che sia del Movimento 5 Stelle, potrebbe essere della Lega, potrebbe essere una berlusconiana, ma se un sindaco di Roma oggi pensa di fare una roba in cui mi dice, mi dice rinasce Roma passo dopo passo, vuol dire che questa, un passo a Roma, non l'ha neanche fatto in queste ore, voi non sapete che cos'è Roma, non c'è una strada a posto, non è colpa della Raggi soltanto, ma che oggi non ci prendesse per il culo, scusatemi lo sfogo perché questa è una città oggi che sembra di stare a Beirut, anzi no, Beirut ci sono stato l'anno scorso, è peggio di Beirut, è molto peggio di Beirut, va bene? Passo dopo passo, gli impianti semaforici, ma come si parla? Ma come parlate? Gli impianti semaforici? In Sicilia è stupendo il pezzo di Sottile Oggi sul Foglio in cui racconta, scusateci spiegate, un motivo per il quale in Sicilia erano tutti mafiosi, erano tutti clientelari, erano tutti gente che votava la DC, la peggiore, Cuffariani, Lombardiani, quello che volete voi e oggi che ha vinto il Movimento 5 Stelle è perfetta? Beh, io dico di più sul giornale, attenzione, i voti non si possono tenere nel congelatore, non ci sono voti di serie A o di serie B, non esistono, i siciliani che hanno votato Musumeci sono gli stessi che hanno votato 5 Stelle, chiaro? Punto e basta, punto e basta, va benissimo, non si può pensare che quelli erano prima mafiosi e poi parassiti, dal mio punto di vista, vanno bene chiunque sia, va bene? Il voto degli italiani deve essere rispettato, chiunque si votano, no? Chiaro, mi sembra talmente banale, dice magari a Milano avesse un sindaco come la Raggi, no guarda, va bene, il sindaco di Milano non è il mio sindaco preferito, è il sindaco che fa le manifestazioni dell'accoglienza, ma magari Roma avesse il sindaco di Milano, ti dico, il contrario, cara amica che dici, Marco, la mafia come sempre si è riposizionata e non è così, vabbè, Iussoli, molto divertente oggi un controcorrente d'Italia Oggi che dice dove è finito lo Iussoli per il quale l'EU, cioè i liberi uguali, si sono scissi dal PD, hanno fatto quel partitino che non vale nulla e perché in campagna elettorale non hanno parlato? Per lo stesso motivo rispondo io a Italia Oggi per il quale oggi Lega e Movimento 5 Stelle ragionano lontanamente di allearsi con il PD. La cosa più importante che avviene oggi non riguarda la politica, cari amici miei, ma è un'azienda di ricomunicazioni ex italiana più importante che Team, un'azienda di cui non si riesce a capire nessuna strategia, nessuna idea, nessun futuro, questa società che si chiama Team viene oggi scalata da un fondo americano che si dice Elliot, viene scalata, non si riesce a capire anche questo se quanto sta comprando perché è terra di conquista da parte di tutti, la vecchia Telecom che è stata così mal gestita negli ultimi anni. Ci sarebbe da approfondire su Team, non è questo il periodo perché oggi tutti quanti ci divertiamo purtroppo con la politica. Vi do appuntamento questa sera a Matrix, a Canale 5 alle 23.30, la differenza non stanno i sindaci, Milano e i milanesi e Roma c'hanno i romani. Io sono romano e però questa considerazione che hai fatto purtroppo non è del tutto sbagliata. Vi do un grande abbraccio questa sera a Matrix, oggi pomeriggio alle 19, Matrix su 105, sito nicolaporro.it, condividete, voglio sempre fare 100.000 visualizzazioni a cui mi sono abituato e mi sembra un numero straordinario. Ciao! Grazie! 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 Grazie!